la nostra diretta di fuori corsa in collegamento matteo recanatesi dall'equivet roma ospital matteo buongiorno ben ritrovato ciao buongiorno maurizio buongiorno a tutti adesso sono con il padrone di casa della equivet carlo bolaffio buongiorno a tutti e vediamo dietro di lui c'è uno dei cavalli ricoverati anzi una cavalla perché una cavalla che peraltro è una storia particolare 26 anni viene dall'equitazione si è una cavalla anziana con una proprietaria molto attaccata a lei e ci tiene tantissimo soffre di coliche ricorrenti cioè ogni periodo ogni tanto va in colica e quindi è venuta qui per fare degli accertamenti fare delle una diagnostica e adesso insomma ha avuto due giorni terapia intensiva adesso si sta piano piano uscendo da questo periodo periodo brutto sta facendo tutte le cure abbiamo scoperto che ha una malattia endocrina che è il cushing che sarebbe un tumore della ghiandola ipofisaria che se cernetta cth gli da anche altri problemi tipo il tessutismo eccetera ecco l'avete scoperto facendo delle analisi approfondite così entriamo proprio nella questione qui si la calla ha fatto ecografie addominali ecografie toraciche ha fatto analisi del sangue radiografie al torace e all'addome oggi dovrebbe fare la gastroscopia e quindi è un esame dove vai a vedere praticamente dal vivo quello che c'è nello stomaco tritte eccetera quindi insomma è seguita a 360 gradi ecco dunque stiamo parlando proprio delle attività che si svolgono in questa clinica è una clinica molto attrezzata abbiamo prima fatto un giro insieme a carlo c'è una clinica che ha presentato come una struttura in grado di assistere a 360 gradi il cavallo oggi non solo cavalli da corsa ma anche cavalli da sella da passeggiate seguiamo anche cavalli dell'esercito della polizia dei carabinieri eccetera quanti ne seguite avete mai fatto un calcolo dei vostri pazienti diciamo abbiamo aperto nel 2013 e abbiamo una media di 400 500 cavalli l'anno che entrano escono quindi siamo più o meno sui 4.000 5.000 questi dieci anni ecco 5.000 cavalli che hanno bisogno di quali quali sono le patologie più diffuse diciamo che i cavalli che entrano nella nostra clinica diciamo il 50 per cento sono clinica medica quindi patologie non chirurgiche quindi coliche malassorbimenti dimagrimenti cronici anche tossi insomma problemi polmonari eccetera e l'altro 50 per cento invece hanno bisogno di interventi chirurgici gli interventi chirurgici che facciamo sono più o meno diciamo quasi tutti gran parte sono interventi di urgenza interventi di colica interventi di osteosintesi nel caso di fratture degli arti e poi magari ci sono invece degli interventi di ortopedia o dei tessuti molli che sono invece di routine quindi sono programmati non sono non d'urgenza ecco la chirurgia è proprio la sua specializzazione in sala operatoria andrà tra poco per un'artroscopia a uno dei suoi pazienti uno di cavalli si un cavallo da corsa che ha un piccolo frammento secondrale nell'articolazione del carpo e quindi andremo a rimuovere questo questo frammento in artroscopia in modo da dargli un po meno dolore quindi a riprendere un pochino l'attività agonistica bene si fa molto dei hospital anche qui si noi facciamo tanto dei hospital nel senso che cerchiamo di non è sempre una clinica è sempre un ospedale quindi cavalli fuori dal loro ambiente a meno che non hanno bisogno di una terapia intensiva di una degenza stanno male no nel senso che come noi andiamo in ospedale vogliamo non vediamo l'ora di tornare a casa e quindi cerchiamo di fare tutte le indagini diagnostiche le indagini in dei hospital in modo da rimuovere il cavallo tra i suoi cari tra i suoi padroni proprietari ok tranne nello specifico l'operazione in artroscopia che dovrà compiere tra poco in cosa consiste esattamente che riguarda si riguarda l'articolazione del carpo il cavallo viene messo in anestesia generale e diciamo gli interventi sui cavalli sono come più o meno quello che succede nelle persone quindi c'è un'anestesia generale gassosa quindi con un apparecchio di anestesia che fa con la ventilazione assistita si fa uno scrub c'è una disinfezione chirurgica della parte e poi si entra con un artroscopio quindi con una telecamera all'interno dell'articolazione si guarda bene tutte si esplora tutta l'articolazione se ci sono delle ossa che hanno un po di un pochino di cartilagine un po mangiata un po rovinata se ci sono dei frammenti ossocondrali si entra dall'altra parte con una pinza e si leva questi questi benissimo la carlo balafio a questo appuntamento con la sala operatoria quindi lo mandiamo ad operare questa mattina grazie a lei intanto per averci illustrato le attività della clinica mentre una clinica gestita peraltro da tre soci carlo non è che uno la seconda la sentiremo tra poco mentre possiamo vedere anche il paesaggio in cui ci troviamo perché abbiamo detto che siamo alle porte di roma cinque chilometri oltre il raccordo in zona sud nella primissima campagna romana lo diamo qui anche un'atmosfera che ispira tranquillità adesso ne parliamo anche con l'icia scacco internista veterinario internista di questa clinica come abbiamo detto una dei soci della equivet roma hospital e con lei parliamo di altre problematiche però voglio partire con lei anche invece da un'altra storia sempre per rendere empatica anche la presenza dei cavalli qui la storia di una cavalla che avete adottato questa assolutamente è una bellissima storia qualche l'anno scorso abbiamo adottato una puledra che aveva arrivata qui in colica come avete sentito da carlo il mio socio purtroppo questi cavalli soffrono spesso di mal di pancia e questa cavalla è arrivata questa puledra in clinica con un forte mal di pancia ha avuto necessità di effettuare un intervento chirurgico successivamente all'intervento chirurgico ha avuto un problema un arto poi ha avuto un problema un tendine per cui la sua carriera da cavalla da corsa diciamo che non era più al più alle porte ecco non era possibile per cui l'abbiamo adottata fa parte del nostro team a tutti gli effetti alla nostra mascotte ogni tanto proviamo a rimandarla in un branco di cavalli perché è giusto che come i propri bambini che stanno vivano a contatto con gli stessi soggetti con la stessa età per cui li mandiamo nei branchi dove ci sono degli altri puledri di un anno lei puntualmente si fa male per cui ritorna in clinica stiamo accettando che lei preferisce vivere qui per cui fa parte proprio di noi bene adottata adottata tutti gli effetti sì sì allora parliamo con te invece dell'addome una delle parti più sensibili dei cavalli come avviene qui il check up dell'addome che cosa viene praticato sul cavallo nel momento in cui mostra una di queste patologie allora chiaramente è una patologia che si può verificare in uno stato di urgenza e quindi ci sono cavalli che arrivano qui in un momento di urgenza e solitamente è del weekend di notte come non c'è niente da fare è la legge di Murphy bravissimo per cui bene qui facciamo la visita e gli esami del sangue l'ecografia addominale eventualmente una gastroscopia e si mette sotto terapia e si valuta se poi deve essere un problema da affrontare per via chirurgica i soggetti invece che non hanno hanno delle piccole coliche ricorrenti per cui non hanno poi necessità di un ricovero in clinica ma tutto ciò accade in scuderia vengono poi portati in clinica nel momento in cui non stanno male per cui per esempio oggi sono arrivati due cavalli uno dalla toscana e uno da qui vicino per fare proprio questo check up addome quindi gli richiediamo di portarli quando stanno bene in realtà non in un momento d'urgenza e quando arrivano vengono pesati visitati viene raccolta tutta la storia di questo cavallo per cui con chi vive cosa mangia se sono state somministrate delle terapie quanta acqua beve se sono stati fatti i pareggi della tavola dentaria per cui viene raccontata un po' da parte del proprietario la storia del cavallo perché chiaramente loro non ce la possono raccontare e a quel punto poi dopo tutto ciò avvengono gli esami collaterali che sono di solito sempre esami del sangue un'ecografia addominale una gastroscopia come vi ha parlato accennato anche Carlo e poi da lì step per step si va avanti fino a capire effettivamente qual è la problematica del cavallo e solitamente oltre la terapia c'è una forte correzione della dieta perché spesso le problematiche le induciamo proprio noi dandogli magari degli alimenti non adatti da una problematica all'altra le ferite invece so che avete un macchinario anche questo di nuova generazione una luce polarizzata che facilita la cicatrizzazione sì e allora i cavalli hanno delle difficoltà di cicatrizzazione per cui a casa per il proprietario poi anche molto difficile a volte dedicarsi alla riabilitazione diciamo così di una ferita e quindi trasformarla poi in una cicatrice funzionale ma anche esteticamente adatta corretta per cui vengono in clinica dei cavalli che devono essere sottoposti a delle terapie per migliorare questa cicatrizzazione oggi vi faremo vedere l'utilizzo di questa luce polarizzata che è un per velocizza appunto la cicatrizzazione e la formazione del tessuto di granulazione bene è indolore non invasiva per cui il cavallo lo fa da sveglio e ci vuole anche poco tempo perfetto e queste sono tutte attività che noi vedremo nel servizio che verrà montato poi su questo fuoricorsa che potremmo vedere in ecotv racconta nel frattempo parliamo anche di altre problematiche oltre a queste quali sono quelle che più frequentemente voi dovete curare allora parlo per la mio il mio settore per quello di cui io mi occupo le cose più frequenti che accadono sono problemi polmonari quindi anche loro prendono infezioni per cui spesso vengono in clinica con delle forme di polmonite che dobbiamo trattare e risolvere chiaramente consideriamo anche che il cavallo vive all'interno di una scuderia per cui se avviene un'infezione ad un soggetto dobbiamo stare attenti che non ci sia una propagazione dell'infezione agli altri cavalli della scuderia per cui arrivano qui e vengono messi in dei box isolati in modo tale da gestire oppure problemi neurologici ancora possiamo continuare con i problemi oculari proprio come noi siamo uguali bene grazie per queste informazioni è stato utile anche capire quali sono gli interventi che vengono fatti sui cavalli ringraziamo per questo licia l'ultimo socio che è il terzo del gruppo che ha fondato equit roma hospital si tratta di alessandro illuzzi il un altro veterinario chirurgo anche lui esperto della sala operatoria e lo presentiamo subito qui accanto a noi buongiorno buongiorno a tutti buongiorno alessandro con te abbiamo diviso un po gli argomenti quindi con te magari parliamo di delle visite che vengono fatti ai cavalli in particolare della visita ortopedica si qui come diceva prima carlo e lì ci abbiamo molti cavalli che vengono in dei hospital e oltre per quanto riguarda la medicina interna ci sono anche visite ortopediche quindi abbiamo un'area predisposta della clinica per effettuare queste visite ortopediche dove valutiamo il cavallo da punto di vista ortopedico c'è una sala visite abbiamo una sala visite un'area esterna dove possiamo fare trottare girare alla corda il cavallo e valutare fare tutte le indagini necessarie per il caso nella visita nella sala visita invece effettuiamo esami radiografici ecografici una volta individuato il problema e poi c'è la visita neurologica sì la visita neurologica è importante quanto la visita ortopedica di solito vengono cavalli inizialmente vengono cavalli che hanno problemi nelle andature ma non sappiamo se è una visita di zoppia una visita neurologica quindi poi vedendo il caso stabiliamo su quale via quale via prendere la visita neurologica viene fatta per esempio nel cavallo giovane come puletri per alcune sindrome la sindrome wobbler che è una patologia delle vertebre cervicali in base al grado di gravità può portare a grossi problemi i locomotori del treno posteriore del cavallo quindi sì facciamo anche questo lo fate su cavalli che arrivano qui a volte portati dai proprietari a volte nei van qualche volta nell'ambulanza questo è un altro servizio che offriamo ai nostri pazienti e clienti l'ambulanza è utilizzata come a un doppio utilizzo viene utilizzata in questi casi di emergenza quando il cavallo non può essere trasportato da un normale van oppure nelle gare di salto ostacoli completo dove deve esserci un'ambulanza presente perché in caso di emergenza può essere trasportato il cavallo previsto dal regolamento in sicurezza allora andiamo a vedere proprio questa ambulanza come vediamo qui è griffata Equipet Roma Hospital con la sua apertura adesso stiamo aprendo la parte superiore e poi la pedana che è quella che consente al cavallo di salire e di scendere andiamo a scoprire proprio Alessandro quali sono le attrezzature che troviamo dentro questa ambulanza All'interno dell'ambulanza ci sono diversi accessori chiamiamoli così c'è questa grande barella che viene utilizzata per fare entrare i cavalli che non possono entrare con le proprie gambe quindi i cavalli che sono a terra questi cavalli poi vengono una volta che stanno nell'ambulanza viene messo un copritesta un caletto vengono messe delle fasce alle gambe proprio per proteggerli e fare un viaggio in sicurezza Quante persone servono per trasportare questa barella? Ma bastano pochissime persone perché utilizziamo il vericello per tirare dentro la barella vengono addormentati i cavalli quindi fanno il viaggio in anestesia Ma ci sono dei teli sulla parte destra? Questi teli vengono utilizzati durante le gare di saltostacoli o di completo nel caso in cui il cavallo ha qualche problema per isolare il campo visivo in modo tale che il pubblico non abbia dei brutti ricordi dell'evento in modo che il veterinario possa lavorare in tranquillità Questi sono dei teli che si aprono e circondano il cavallo lasciando un grande e ampio spazio di manovra a tutti gli operatori Bene, vediamo una bombola dell'ossigeno Una bombola dell'ossigeno, una cassetta di primo soccorso il veterinario dell'ambulanza utilizza sempre un coprigiacca per farsi riconoscere quindi è sempre molto visibile il cavallo entra da quella porta lì dalla parte posteriore dell'ambulanza e poi viene trasportato in clinica L'ambulanza si attacca con un gancio traino la normalissima auto quindi non abbiamo nessun problema nel trasporto dell'ambulanza stessa con il cavallo Bene, ogni quanto viene utilizzata l'ambulanza Noi per esempio l'ambulanza l'anno scorso l'abbiamo utilizzata per i mondiali di completo quindi ha un bel impegno soprattutto nei concorsi ippici e nel completo Per i casi d'urgenza diciamo per fortuna meno ha più un servizio pubblico che un servizio di urgenza con cavallo a terra viene utilizzata Bene, perché i cavalli di solito riescono ad arrivare qui con i loro cavalli Benissimo, benissimo Qui intanto vediamo, c'è una parte dei box in cui ci sono ricoverati alcuni cavalli Anche se la maggior parte fanno dei hospital Sì, tanti fanno anche dei hospital Infatti oggi due pazienti sono in dei hospital rimangono tutto il giorno con noi viene fatta la visita ha capito quello che cosa hanno e ritornano tranquillamente a casa Oggi cosa l'aspetta in questa giornata? Oggi ci aspetta l'artroscopia insieme a Carlo Poi Licia si dedica a questi dei hospital e poi una visita ortopedica Bene, allora la lasciamo andare al suo lavoro Grazie, grazie Grazie mille ancora una volta per averci accolto Grazie Intanto vi abbiamo mostrato le attività di Equivet una realtà che ovviamente affianca il mondo del cavallo non ci sono soltanto corse e aspetti piacevoli della vita di un cavallo Qualche volta anche loro come noi finiscono in ospedale In questa clinica è una delle zone in cui loro vengono curati per le varie patologie che presentano Come abbiamo visto ci sono attrezzature e strutture all'avanguardia per curare questi cavalli Complessivamente su quale spazio siamo qui? Come penso quasi un ettaro Quasi un ettaro riservato alla cura del cavallo Bene, dalle porte di Roma allora è tutto Maurizio se hai qualche curiosità ti lascio parlare con Alessandro altrimenti possiamo chiudere qui il collegamento Ma guarda soltanto una curiosità Matteo perché salvaguardia, benessere, prevenzione però c'è il discorso legato anche ai costi e credo che il centro Equivet sotto questo punto di vista abbia fatto proprio un po' una missione per cercare naturalmente di poter accogliere un po' tutti quelle che sono le cure naturalmente dei cavalli che spesso e volentieri hanno dei prezzi molto elevati Lo chiedo al dottore naturalmente Sì ovviamente per noi la prima cosa è il benessere del cavallo ovviamente la gestione della clinica non è una cosa facile e quindi capiamo anche il proprietario che per lui sopportare l'esigenza del proprio animale è un bel impegno quindi capiamo benissimo addirittura abbiamo adottato un cavallo proprio per questo motivo perché il proprietario non poteva più averlo come semplice cavallo da compagnia l'abbiamo preso noi perché ci eravamo affezionati a questo piccolo animaletto Bene da Equivette è tutto salutiamo Alessandro Lillusti e anche i suoi soci grazie Maurizio arrivederci Grazie al dottore grazie a Matteo Lecanatesi questo per il Fuoricorsa Odierno Grazie a tutti